si comincia iniziata ischia albanova arriva il fischio dell'arbitro parte chicco arcamone smanacciata all'ora sulla traversa trova uno zero ischia tra le proteste dei giocatori dell'albanova il gol però è stato convalidato l'arbitro resta lì però tutto fermo perché il guardalineo stava andando verso il centrocampo il direttore di gara si ferma aveva anche indicato il centro che cosa fa l'arbitro ma è calcio d'angolo però perché ha smanacciato il portiere scodella il pallone al centro no confusione totale della terna direttore di gara mi sa che non sappia cosa fare sì ora alla fine viene dato il calcio d'angolo ma se la rilancio finisce qui il primo tempo zero a zero tra ischia e albanova poche emozioni entrato ioio serrano e romano calcio d'angolo pallone dentro uno a zero ischia assigliato pippo florio attenzione al pallone dentro lebre alla fine non c'è nessuno dell'albanova per fortuna dell'ischia non è finita occhio al tiro sul fondo di auriemma crisi agliacono con le mani ancora massimo di luise che prolunga offside posizione regolare di castagna ancora severino recupera il pallone ora montanino montanino alla fine fortunato nel rimpallo l'apertura a destra per castagna si butta dentro massimo di luise sul secondo palo c'è gigio trani castagna pallone per gigio il tiro troppo debole vitale lepre pallone in mezzo attenzione ci sono due giocatori dell'albanova il tiro di vitale che fa la barba al palo attenzione perché c'è questo è già no vitale non è ammonito qui attenzione nervosismo a rosso diretto ha cercato di ferire qualcuno in panchina non doveva ferire ha mandato così forte non doveva ferire ha avverti il punto che già ci sta no vediamo che cosa succede vitale è espulso però l'arbitro è ancora lì sì di fatto ha bucato la panchina uno dei due buchi già c'era però quello nella scritta medmar è stato creato proprio dal dal violento gesto di vitale pallone diventa buono per ciccio trani il portiere uscito due a zero la chiude lui la chiude ciccio trani due a zero al quarantaquattresimo floria di inizio ripresa attenzione ora perché castagna può dilagare castagna 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 palo triplice fischio alla mazzella l'ischia batte l'alba nova due a zero grazie alle reti di florio e gigio trani che attenzione